Elia Ongaro Già pronti col casco, carichi, corre in casa Siamo pronti, siamo pronti Aspettative? La classe è bella tosta, anche se è una piccola N2, definiamola così Eh, tosta è tosta, vediamo di fare il nostro meglio Bene, bravi, non si sbilanciano più di tanto, vogliono mantenere comunque un profilo basso la maggioranza dei concorrenti Comunque le aspettative sono tante per tutti gli equipaggi Magoni Ongaro, Peugeot 106 Tra poco avremo un nuovo equipaggio formato da Enzo Bergmi e Marco Costa con la Peugeot 106 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti